Tragedia lungo il tratto a rettino dell'autosole dopo l'uscita a Valdarno, un ragazzo di 30 anni, originario di Roma, ha perso la vita. Erano le 22 circa quando padre, madre e figlio, forse in seguito ad un guasto dell'auto, si sono fermati lungo la corsia dell'autosole al chilometro 34. La madre e il figlio sarebbero scesi dall'auto, il ragazzo si sarebbe portato al centro della corsia. In quel momento stava transitando un camion, l'autista se l'è letteralmente trovato davanti e non ha fatto in tempo ad evitare il giovane che è morto nell'impatto. La madre nel tentativo di salvare il figlio è rimasta invece gravemente ferita, illeso il padre. La donna è stata portata con il Pegaso all'ospedale Fiorentino di Careggi in codice rosso. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, gli agenti della polstrada di Battifolle che hanno chiuso al traffico la corsia interessata dall'incidente per le operazioni di soccorso e per il recupero della salma. Pesanti le ripercussioni sul traffico che è tornato alla normalità intorno alla mezzanotte.